Bentornati a Trame Raccontate Male. Oggi distruggiamo Rigoletto, ma prima di farlo facciamo un disclaimer per le teste di marmo. Adoro Verdi e Rigoletto è la mia opera preferita dell'Ottocento. Ricordiamoci quindi di non prenderci troppo sul serio e di avere un po' di ironia nella vita. Anche Rigoletto rispetta la regola di George Bernard Shaw. Il tenore vuole andare retto con la soprano e il barito non lo vuole impedire. Siamo a Mantua nel palazzo del Duca, un erotomone che si accoppia con qualunque esemplare di femmina di Homo Sapiens che gli capiti a tiro. Tra il prossimo conquisto del Duca c'è una ragazza che lui sta curando da tre mesi e ora crede che sia arrivato il momento giusto di finalizzare, perché i preliminari sono durati abbastanza. In questo palazzo troviamo anche Rigoletto, il buffone deforme del Duca, che si diverte a sfottere tutti. Sfotti oggi e sfotti domani va a finire che Rigoletto riesce a nimicarsi tutti i cortigiani o comunque una buona parte. Uno di questi entra e racconta ai suoi compagni di bagordi che Rigoletto ha un amante. Non essendo ancora il body shaming entrato nei costumi esecrati dalla società di allora, tutti si chiedono come sia possibile che un tale obrobrio di natura, gobbo e deforme, abbia trovato una disposta a concedersi senza la corrisponsione di un'adeguata somma di denaro in cambio. Stanchi degli sberleffi di Rigoletto, decidono di vendicarsi alla prima occasione. I cortigiani però non sanno due cose. Uno, che quella che loro credono essere l'amante di Rigoletto in realtà è sua figlia. Due, che questa ragazza è la stessa che il Duca sta attacchinando da tre mesi. Ma vediamola questa ragazza, Gilda. Gilda è una ragazza ingenua, più ingenua di Bambi. Del suo passato non si sa praticamente nulla. Non sappiamo dove sia stata fino a tre mesi prima, forse in convento, forse in campagna, in un bed and breakfast, non lo sappiamo. Non ha mai conosciuto sua madre e di suo padre, ovvero Rigoletto, non sa niente, neanche il nome. Rigoletto è consapevole che l'ambientino nel quale vive tiene in grande considerazione la donna. Infatti lo sport nazionale è il rapimento dalle donne altrui a scopo di libidine. Un filo, filo preoccupato per sua figlia, perché sono tutti libertini con le figlie degli altri, l'affida la domestica Giovanna. Ma Giovanna, di cognome Iscariota, la vende al Duca per 30 denari e senza neanche suicidarsi dopo. Il Duca, quindi, aiutato da Giovanna, entra in casa di Gilda e raccontando una storia a cui non avrebbe creduto neanche Maria Goretti, le giura eterno amore e va via sparando un re bemolle, se era Pavarotti, se no, no. Giungono i cortigiani con l'intento di rapire quella che credono essere l'amante di Rigoletto, perché quest'oggi non hanno ancora rapito nessuno e nel campionato rapimenti sono a rischio retrocessione. Fuori da casa di Rigoletto incontrano, non ci chiederete mai, Rigoletto. Rigoletto, che vede i cortigiani vicino a casa sua come un branco di orche assassine attorno a un'otaria, è preoccupato, ma si rassicura quando tutti gli dicono che sono venuti a rapire la moglie di un nobile. E Rigoletto dice, pensavo peggio. E si offre perfino di aiutarli. E qui il librettista approfitta della nostra pazienza facendoci credere che Rigoletto, davanti a casa sua, pensi di essere davanti alla casa del nobile, la cui moglie si vorrebbe rapire. Ma il librettista non basta e decide impunemente di insultare la nostra intelligenza con la seguente scena. I cortigiani mascherano Rigoletto. Sulla maschera c'è una benda, ma Rigoletto non se ne vede. Non pago e il librettista cerca di farci credere che quella benda non solo non faccia vedere Rigoletto, ma non lo faccia neanche sentire. Sorregge quindi la scala con cui i cortigiani si introducono in casa sua. Ma lui non se ne accorge perché è bendato. E siccome per l'ibrettista è anche sordo, non sente neanche le eventuali gride di Gilda. Quando il genio si accorge di essere bendato e scopre cosa è successo veramente, i cortigiani hanno già rapito Gilda. Ora, facciamo il punto della situazione. Hanno appena rapito tua figlia e l'hanno portata via in spalla, non su un Porsche Cayenne. Per cui non possono essere andati tanto lontano, ok? E tu che fai? Hai due opzioni. Puoi andare nella più vicina caserma dei Carabinieri per denunciare l'accaduto. Oppure, siccome sai chi l'ha rapita, ci hai parlato pochi minuti fa per la puttana, vai a pescarli a casa loro e li scanni con le tue mani. Li conosci tutti. Invece no. Rigoletto pensa che la soluzione migliore sia lasciar passare la notte, che si sa porta consiglio, e il giorno dopo, con tutta calma, dopo aver fatto colazione al bar della stazione col consueto caffè americano ricaffinato, va a palazzo. Incontra i responsabili, e invece che prenderne uno qualunque a sberle finché non parla, la tira tanto in lungo che il duca, a cui i cortigiani hanno portato Gilda come cadeau, fa in tempo a insozzarne il candore. Rigoletto giura vendetta, ma siccome probabilmente avete capito che prestanza fisica e coraggio gli fanno un filo difetto, chiede aiuto a Sparafucile, un sicario che questa settimana fa il 50% soddisfatti o rimborsati, ma termina domenica. Sparafucile attira il duca nella locanda gestita dalla sorella Maddalena, che a naso faceva la stessa professione della Maddalena dei Vangeli, con la quale il duca neanche a dirlo ci prova in tempo zero. Gilda, nonostante l'onta subita, è ancora innamorata del duca, e Rigoletto è convinto che vedendo la vera statura morale del duca, Gilda finirà per disinnamorarsene. Dopodiché le ordina di andare via e prende accordi con Sparafucile per uccidere il duca. Sembra tutto stabilito, ma come spesso capita, le donne cambiano completamente gli esiti preventivati di un'opera lirica. La prima è Gilda, che invece che obbedire a suo padre e andarsene a Verona, torna fuori dalla locanda a spiare all'interno. La seconda è la sorella di Sparafucile, Maddalena, che essendosi innamorata del duca, propone al fratello di uccidere Rigoletto invece del duca, che nel frattempo se la dorme beatamente nella locanda. E qui l'etica professionale di Sparafucile per un momento sembra prevalere. Lui dice infatti alla sorella, ladro son forse? Son forse un bandito? Qual'altro cliente da me fu tradito? Mi paga quest'uomo fedele mavrà. Maddalena però non molla e rompe tanto i didimi al fratello che qua si decide che se qualcuno si dovesse presentare alla locanda in quel momento, morirà al posto del duca. Gilda, che ha sentito tutto, pensa che sia una buona idea sacrificare la propria vita per quel filifergo del duca. Bussa quindi alla locanda e viene pugnalata dal sicario. Dopodiché, come raccordi presi con Rigoletto, Sparafucile mette il corpo presunto del duca in un sacco e lo consegna a Rigoletto perché vuole buttarlo nel fiume. E ovviamente riscuote il patuito. E qui penso alla bellissima versione del film girato da Ponnell nel 1982. Perché per riuscire a far credere che Pavarotti, circa 120 kg, è confondibile racchiuso in un sacco con Editha Gruberova, se no 50 kg, devi essere un grande regista. Quando Rigoletto sta per gettare il corpo nel fiume, sente il duca che se la spassa alegramente, cantando la famosa aria, la donna immobile, con un arrogante sinaturale finale, e scopre che nel sacco, invece del duca, c'è sua figlia. L'opera finisce con Gilda che muore fra le braccia di Rigoletto e il duca che se la spassa. Non trovate che tutto ciò sia fantastico? Ci vediamo alla prossima. Grazie.